Ciao amici, sono Marco Gasco e sono nato il 9 dicembre 1971 a Mondovieo, 50 anni. Come molti di voi sapranno, da due anni ho abbandonato la mia attività lavorativa da impiegato per dedicarmi alla cura del negozio storico di strumenti musicali in Music Shop in Via Beccaria. Questo video è rivolto ai miei amici di Facebook del Moregalese. Domenica 12 giugno si vota per l'elezione del nuovo sindaco di Mondovieo. Ho deciso per coscienza civica di candidarmi in una lista del patto civico. La lista si chiama Mondovie protagonista. Noi sosteniamo l'elezione alla carica di nuovo sindaco per Luca Robaldo. Su Luca Robaldo vi è molto da dire. Il suo programma è importante e vario, ma in questa serie di video non abbiamo il tempo di descriverlo. Lo riassumiamo solo con degli aggettivi. Serietà, umiltà e dedizione. Per costruire il futuro di Mondovieo. In buona sostanza, Luca Robaldo è l'uomo giusto al momento giusto. Farà molto per la città di Mondovieo. La città di Mondovieo ha bisogno di persone come lui. Per quanto riguarda la mia candidatura, invece, ho deciso di avvalermi delle modernità. Le vecchie modalità di campagna elettorale, di propaganda, sono obsolete. Utilizzo quindi Facebook, come anche Luca Robaldo ci spiega in questo video. Ciao a tutti e benvenuti sulla nostra pagina di Facebook. Il luogo dove troverete le proposte programmatiche del patto civico è il luogo che utilizzeremo per avviare un confronto con voi, per accogliere, per discutere le vostre proposte. Entusiasmo, passione, dedizione, impegno. Sono queste le caratteristiche della mia candidatura a sindaco e quella di tanti amici che hanno deciso di aderire al patto civico, la nostra coalizione. Una coalizione che è composta da persone che hanno deciso di mettere da parte le appartenenze politiche per dedicarsi all'esclusivo interesse della nostra città. Vogliamo lavorare al futuro di Mondovieo e vogliamo farlo insieme a voi. La mia scheda è la seguente. Per chi mi ama, per chi mi apprezza, sono a richiedere la preferenza. Attenzione, farò ticket che è sinonimo di doppio voto insieme ad un candidato donna della mia coalizione. L'avvocato Francesca Bertazzoli. Francesca, per chi la conosce, è un professionista dedito al lavoro e al benessere della città molto molto serio. In buona sostanza, ecco come si presenterà la scheda elettorale. Come vedete, per chi vorrà votarmi, occorrerà mettere due croci e scrivere Gasco Bertazzoli. Amici di Facebook, che dire, la questione è questa. Se volete, come sindaco Luca Robaldo, votate Gasco Bertazzoli. Vi ringrazio. Ciao. Grazie a tutti.